La fontana è vero? Cacca Vaffanculo Vaffanculo Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui, sulla mappa horror, si chiama una notte, un incubo, boh qualcosa, adesso lo spark Senti PD, ok, vuol dire che la laser spark sta lavorando, ok Benvenuto, grazie per aver scaricato questa prima mappa, speciali grazie al gruppo di amici che mi hanno aiutato Ok, primo bottone divertiti Ok Printness, l'over 50 Render distance, 18 Usa la soft pack, prima di iniziare Ok Sound file present Già la musica è inquietante Ah ecco, un incubo terribile Terribile Ok Come è tardi Forse dovremmo andare a letto Ma non ho... Perché è tutto buio lì Abbasso Forse è meglio C'è il prossimo Bene Ci ha detto che siamo il prossimo Ma magari no Spero che... Stavo scherzando Un altro Beh, è un posto abbastanza accogliente, no? Sì, forse Allora Ma quante scale C'è da fare Soprattutto con la posizione di lentezza E... Quella? Aiutami Chi? Lei mi ha trovato Ho corso, veloce Più che potevo C'è solo un posto Dove mi posso salvare Van Al... Basamento Che non sarebbe basamento Ma sarebbe Di sotto Cioè nella... Cantina Questo Una volta trovato Non girarti indietro C'è qualcosa nascosto C'è una leva nascosta Lei è qui Ok Devo trovare Una leva Nella... Nella... Nella cantina Aiutami Ok No, non ti aiuto Ok, magari ritrovo la leva lì Chiave Ok Devo andare di sotto Devo andare di sotto Ok, devo andare di sotto E aperti qua Ecco Sicuramente Sicuramente Potrei trovare tipo un modo Nella lobby Nella lobby Ok Qui non c'è niente Trovo la leva nascosta Questa Questa... Ecco Appunto E questo Dove sono finito? Ci ho trovato Già trovato? Che qua c'è dell'acqua? Ah, c'è la fontana, è vero? Che cosa? Che cosa ho visto? Era bruttissimo Ok E questo? Perché c'è la... Cosa c'è qua? Cosa ho aperto? Ma... Ma... È fatta Finalmente Ho bisogno Ho bisogno Di... Una leva Qua c'è un passaggio Ok Top secret Inizio a questo posto Per... Ah, praticamente Scrive De chi è stato fatto questo posto E... Chi ci ha lavorato E... Così Ma perché mi faccio... Faccio queste mappe? Ok Ecco appunto C'è una scuola Fantastico Un'aula più grande Ecco la scuola Da un incubo Bene Poi ci mettiamo anche una mappa horror No No, 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 no No, no Ma perché? Però come mi pare Ma io... Non mi faccio Faccio Ancestate Ah, che cavolo. ok immagino che io dovrò mettere la chiave qua ora salgo su perfetto la porta c'ho distrutta ma che cosa e ora qua dove devo andare questa è per exit bloccata e sbloccata e questa qua c'è un'uscita per caso ho sbloccato l'uscita sembra che non ci sia uscita bene bene in verità si vaffanculo si non è stato un sogno non lo so cos'è stato ok ok è finita sta mappa non ricordo aver avuto una cantina in questa casa ecco come in tutte le mappe or c'è da andare nella cantina per favore no chiave no mentre arriva le cuffie non c'è un gioco senza cuffie no perché perché io non guardo io non guardo ok ok allora sono fuori cavolo 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 ma che ma perché help me no non ti aiuto oh sono passato bene perché mi ha laggato secondo me sta caricando tipo qualche command block strano c'è un'entrabbia c'è ma perché sono le troppe che deficiente io faccio ste mappe qua devo salire immagino ovvio bene bene ok la chiave si vabbè a casa no quella c'è la chiave ok c'è un corridoio oddio vai a fare un bel giro no rega chiude la porta basta torna su in camera dormi perché non dormi queste casse non sono finito bello oddio questo incubo non è normale non è tutto cosa capitolo 1 ok ok Ok, bravo, grazie Mi hai sperimentato, grazie Grazie Complimenti, te la do eh Ok Bene Quindi per questo video È tutto Ok, questo noto qua mi ha fatto veramente Cagare in mano, quindi La prossima volta giocheremo con i pony Forse è meno Spaventoso Quindi per questo video è tutto Bella Basta